Un nuovo video molto breve in cui vi spiego una mappa XP glitch che vi farla livellare veramente in questa nuova season 4 capitolo 4 di Fortnite Questo è il codice, inseritelo qua e fate gioca, partita privata e le entrate Ok quindi appunto eccoci qua nella mappa, semplicemente bisogna scendere qua sotto Andare, qua abbiamo appunto queste palme con queste due specie di robe strane Qua bisogna salire qua sopra, saliamo qua sopra quindi buildiamo Ok L'obiettivo è arrivare proprio qua Qua si fa una semplice mod Fate una mod La cancellate Evitare, trasportare automaticamente in questa stanza e quando vi andate aspettate la fine di questo timer Ora che video graphic bisogna qua interagire e mettere 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 E qua 8 Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok perfetto, fate conferma Vi darà appunto ora in teoria secret unlocked Ora andate qua fate start E FK XP glitch Quindi ho iniziato a fare già un po' di punto esperienza gratuitamente così Mentre aspettate Quindi partiamo a vedere anche questo rampino Andate qua nell'angolo Mentre intanto che utilizzate a ricevere XP Prendetene un pochino di più Perché ve ne serviranno un po' Quindi io in questo caso mi rendo l'inventario Andiamo qua facciamo appunto il tasto per interagire Che è nascosto in questo angolo Eccolo l'ho visto Ecco interagisci E ora siamo in questa città diciamo immaginaria In questo caso bisogna salire solamente qua sopra Che è per questa bounce room Andiamo qua nell'angolo E facciamo admin XP E come vedete già il primo tasto Che ci darà circa 2000 XP al secondo è stato attivato Come vedete partiamo Stiamo già a 39.000 puni esperienza Poi entriamo in questa stanza Un po' bagata con le texture Qua in fondo andiamo appunto a questo tasto qua Admin XP Interagiamo anche con questo Come vedete siamo già a 42.000 Quasi 50.000 puni esperienza Quindi saliamo qua sopra Da qua si scende qua Andiamo qua dentro E qua interagiamo con questo tasto qua sopra Sopra questo container Secret XP Interagiamo E siamo come vedete già a 60.000 puni esperienza Sempre fatto assolutamente niente Per il prossimo pulsante Bisogna andare qua dietro Proprio qua sopra Come vedete qua In quest'angolo qua Troverete un pulsante segreto Secret XP Ci interagite E siamo già a 106.000 puni esperienza Poi per il prossimo pulsante Bisogna andare qua dietro Ok in questa zona qua più o meno E per questo momento di prendervi più rampini Per velocizzare il processo Andate qua Perfetto Qua in mezzo interagite con questo pulsante Secret XP Come vedete siamo già a 124.000 puni esperienza Solamente interagendo con questi tasti Il prossimo tasto lo trovate qua in quest'angolo Secret XP Interagiamo E come vedete siamo già altri punti esperienza Per gli ultimi tasti invece Andiamo qua dietro In questa zona qua E qua abbiamo quest'altro angolo Dove poter interagire Interagiamo con questo pulsante Qua non ce ne sono altri Se non mi sbaglio Quindi saliamo qua sopra Una volta che saremo saliti qua sopra Troveremo quest'altro tasto qua Interagiamo XP più Rift Come vedete Siamo in una zona con le bounce In queste bounce Basta stare FK E faremo tanti punti esperienza In questo momento Siamo già a 160.000 Quindi a livello 21 Quindi per chi segue i video Siamo a due livelli Fatti in questa mappa Rispetto allo scorso video Quindi appunto voi Stando così Continuerete a fare Questa quantità di punti esperienza Lasciate Andate a fare merenda Doccia Quello che volete Tornate E avrete fatto Almeno un livello in più Rispetto a come siete entrati Quindi iscrivete al canale E lascia like Per altri spieglish così Per altri spieghi